vedere vedere questa bella zona di baggio sembra un paese preso da qua un paese ecco poi in questa via qua da l'impressione di una via di montagna ma in realtà sono in città baggio baggio era considerato fuori Milano tempo fa ma non tanti anni fa e faceva un comune a sé ora invece si è appropriato nella città di Milano e devo dire che corro corro in questa via libera dove non c'è nessuno mi intammino anzi in questo momento sto correndo perché in mezzo alla strada un folle ma oggi libertà di esistere libertà voglia di andare saluti youtube isti cari ascoltatemi sono un folle ma col senso della ragione sì guardare questa bella chiesa questa bella chiesa la chiesa di san napollinare qui una volta si praticavano le funzioni religiose anche adesso al termine delle vie delle forze armate è ancora riconoscibile qui come si vede il nucleo antico di baggio è comune autonomo dal 1923 quando poi è stato messo a Milano di origine rurale infatti c'erano le case che coltivavano i bacchi da sette nel parco canto dove ci sono le cave guardare dove sono ma guardare bene 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 e bene lascerò questa zona per andare a cercare un altrove disabitato un altro luogo dove fa villa è il mio senso di vivere la mia vita la mia gioia perché qui qui mi piace ma è troppo tempo che ci sono è una cosa bella quando c'è una cosa che fugge come la bellezza di un corpo umano se fugge se poi non c'è più lo prezzi di più se poi è un amore breve lo capisci di più anzi lo varia lo rizi in un senso di eternità amare un luogo abitativo io ne ho matti tantissimi ma tanti veramente e adesso ne cerco altri in altre zone lombarde spero che i miei amici mi aiutino nel cercare nel cielo immenso di questa lombardia un altro luogo abitativo come seconda terza quarta casa pagando naturalmente poco o anche non ve l'ho mai detto una casa abitativa a brenna alzate che a giorni vado a vedere è una casa di tre piani è un casello ferroviario poi a giorni ve lo faccio vedere è mio dove posso soggiornare e ammirare la brianza ora ammiro questo senso comune è in me della zona di baggio baggio grazie a tutti grazie a tutti